ciao a tutti e bentornati a pillole di storia combo pitalia oggi è martedì andiamo avanti con il nostro progetto di raccontare tutta la seconda guerra mondiale mese per mese o meglio di due mesi in due mesi se volete vedere lo scorso episodio perché ve lo siete perso andate qui sotto trovate il link in descrizione e subito sotto tra una settimana troverete il link per il prossimo episodio quando state guardando questa serie una in fila all'altra bene da dove iniziare iniziamo dicendo che questo episodio maggio giugno 1940 ci catapulta appieno nella seconda guerra mondiale una delle cose più famose della seconda guerra mondiale è sicuramente la campagna di francia laddove la blitzkrieg cioè l'attacco tedesco veloce portato con mezzi veloci fanteria soprattutto carri armati stuca quindi aerei per bombardamento a terra mostrò tutta la sua grandezza e dove la la tattica moderna utilizzata dai tedeschi diede maggiormente sfoggia di sé contro le tattiche più vecchie da prima guerra mondiale utilizzate dai francesi e dagli inglesi dove eravamo rimasti però eravamo rimasti alla fine di aprile con una guerra in corso che si stava avviando la sua conclusione ma che teoricamente era ancora in corso cioè l'operazione l'operazione wezenburg cioè l'attacco da parte dei tedeschi alla danimarca che era già caduta e alla norvegia come avevo detto la volta scorsa in realtà a maggio a parte delle truppe inglesi che erano sbarcate dopo quelle tedesche che stavano supportando le poche truppe norvegesi che non avevano nessuna speranza di difendersi contro quelle tedesche si stavano già ritirando stavano già tornando verso la patria durante tutto il mese di maggio e l'inizio di giugno queste truppe completeranno il loro ritiro in una data particolare e dopo scoprirete perché cioè il 9 giugno 1940 con la fuga delle ultime truppe inglesi imbarcate e riportate verso l'inghilterra e soprattutto con la fuga o meglio l'esilio del re a conquinto che si rifiuterà di firmare un accordo con i tedeschi come invece aveva fatto cristiano decimo di danimarca preferendo l'esilio a una pace sostanzialmente la guerra in norvegia terminerà consegnando ai nazisti un nuovo territorio da amministrare la norvegia appunto che si riserverà che diventerà molto importante sia per le materie prime col commercio con la svezia ma anche come base per i futuri attacchi ai convogli destinati all'unione sovietica ma di questo ne parleremo tra qualche puntata se però state guardando questo episodio sapete che cosa ci aspetta i primi giorni oltre i primi giorni di maggio oltre che raccontarci della della fine della guerra in norvegia ci raccontano anche degli ultimi preparativi della macchina bellica tedesca diretti verso la francia non so se vi ricordate due puntate fa vi ho raccontato di come alla a gennaio era caduto un aereo tedesco in territorio belga ed erano stati trovati i piani originali tedeschi per l'attacco alla francia e al belgio ovviamente questi piani in seguito al fatto che fossero caduti in mani alleati vennero completamente cambiati e il nuovo piano tedesco si rivelò semplicemente perfetto mentre ancora da alcune parti del mondo si cercava di raggiungere la pace non tanto più tra la germania gli alleati era chiaro che non ci fosse più nessuna possibilità quanto di impedire che mussolini che fino a quel momento si era tenuto fuori dalla guerra anche perché sapeva che il suo esercito non era pronto insomma impedire a mussolini di entrare in guerra e mussolini giocherò un po al gatto col topo con gli inglesi con i francesi persino con gli americani per tutto il mese prima di decidere come tutti noi sappiamo di entrare in guerra ebbene mentre questo avveniva i tedeschi preparavano il nuovo attacco ora è importante che capiate dove si aspettavano l'attacco i francesi e cosa invece fecero i tedeschi bene i francesi si aspettavano cosa peraltro confermata dai piani che erano caduti che i tedeschi ripetessero pedissequamente l'attacco portato durante la prima guerra mondiale cioè non potendo attaccare sul confine in Alsazia-Lorena anche perché era fortificato dalla linea Maginot avrebbero invaso il Belgio e probabilmente anche l'Olanda per poter avere un attacco che aggirasse la Maginot e quindi piombasse verso il nord della Francia usando appunto la Maginot come perno bene teoricamente questa era la proposta iniziale infatti dell'attacco tedesco attaccare il Belgio attaccare l'Olanda invadere quindi la Francia proprio in difesa di questo gli alleati avevano chiesto al Belgio di poter spostare le loro truppe che in quel momento si trovavano sia quelli inglesi che quelle francesi sul confine col Belgio fino al confine tedesco con il Belgio in modo da poter arrestare l'avanzata tedesca subito senza dover arrivare a una battaglia di arresto il perno della loro difesa era sostanzialmente diviso in due cioè c'era la Maginot che era considerata invalicabile c'erano le truppe e in mezzo c'era l'altopiano dell'Ardenne un altopiano ricco di foreste che si considerava essere invalicabile per le forze corazzate il piano tedesco invece era completamente diverso prevedeva sì un attacco da parte della fanteria sul Belgio ed Olanda per attirare le truppe inglesi e francesi appunto in Belgio e occupare in quel modo il nord della Francia ma poi prevedeva che una punta di lancia corazzata cioè un vero e proprio colpo di falce come venne chiamato fosse passasse proprio attraverso l'altopiano dell'Ardenne che vi ricordate si trovava tra la Maginot e le truppe francesi e inglesi aggirandolo posteriormente e sostanzialmente insaccando in una gigantesca sacca le truppe francesi e inglesi non solo insaccandole ma anche puntando a tutti gli obiettivi dietro queste sostanzialmente da dove partivano i rifornimenti per le truppe il 10 di giugno 1940 i tedeschi alle 5 35 del mattino invadono il Belgio e l'Olanda secondo gli alleati che peraltro appena saputa dell'invasione attraverseranno il confine dirigendosi verso il confine tra Belgio e la Germania per attraversare questi territori ci sarebbero voluti dieci giorni questo perché il Belgio era punteggiato di fortezze tra cui quella che era considerata la fortezza più imprendibile dell'epoca cioè il forte di Ebenem e Mahel e vi erano numerosi ponti che erano necessari che era necessario catturare perché il territorio soprattutto quello olandese è ricco di corsi d'acqua è ricco di stagni e quindi insomma era difficilmente attraversabile senza ponti ponti che sulla carta olandesi e begi si impegnavano a far saltare per rallentare con poco amera stato nella prima guerra mondiale l'avanzata tedesca ebbene se in polonia i tedeschi avevano stupito il mondo con i loro carri armati i loro aerei qui stupirono il mondo con una nuova arma utilizzata anche in questo caso per la prima volta cioè i paracadutisti fecero scendere gruppi di paracadutisti che catturarono i ponti più importanti catturarono le fortezze più importanti sostanzialmente in questo modo impedendo ad olandesi e belgi di poterli arrestare particolarmente famosa fu la presa del forte Debenem e Mahel in cui magari in futuro dedicheremo una pillola in cui 80 80 paracadutisti scesero su dall'alto peraltro non con dei paracaduti ma con degli alianti in modo da poter atterrare più facilmente scesero sulla fortezza che teoricamente avrebbe dovuto essere attaccata dal basso e che era considerata praticamente imprendibile scesero sulla fortezza e solo 80 paracadutisti riuscirono al termine di 24 ore di combattimento durissimo a catturarla sostanzialmente disarticolando completamente il meccanismo di difesa belga l'ingresso delle truppe tedesche fu quindi velocissimo e incontro a loro si fecero le truppe francesi nello stesso momento in cui però le truppe avanzavano sul confine belga olandese e lussemburghese peraltro e peraltro la regina d'olanda la granduchessa del lussemburgo fuggivano seguite poi a breve distanza dal re del belgio ebbene un secondo corpo come vi ho detto questa punta di lancia corazzata composta da carri armati e truppe motorizzate quindi truppe con un'alta quantità di motorizzazione che gli permettesse di muoversi alla stessa velocità dei carri armati si infilarono alle spalle dell'esercito francese e inglese il famoso BF British Expeditionary Force queste truppe erano guidate da comandanti come Guderian che era a capo dell'intero gruppo d'armata, Rommel, Von Christ, persone che avevano realmente una grandissima conoscenza tattica e avevano delle ottime idee su come usare i carri. L'avanzata di questa punta di lancia fu talmente rapida, talmente veloce nel suo sfondare le difese francesi che a un certo punto venne arrestata non tanto dai francesi che si trovarono anzi completamente circondati e non capirono a un certo punto neanche da dove stessero sbucando questi tedeschi ma fu arrestata dagli stessi comandi tedeschi che imposero con la forza ai loro comandanti di fermarsi almeno due giorni il 15 e 16 maggio per poter far rifornimento perché erano avanzati talmente tanto che oramai stavano quasi per arrivare al mare, immaginatevi il tratto enorme che avevano attraversato ma con un'avanzata di soli 40 chilometri con tutti i rischi del caso che la Francia potesse fare qualcosa. La notizia però che i carri armati tedeschi avevano sostanzialmente circondato il grosso delle armate francesi e inglesi gettò nel panico i comandanti alleati. Non solo molte truppe disertarono, si diedero alla fuga, cercarono di salvarsi ma i comandanti alleati seppero fare come unica risposta il cercare di chiudere l'attacco alle loro spalle. L'idea sulla base era buona, prendere le truppe che erano entrate in Belgio, farle tornare indietro verso la Francia, quindi con una tenaglia e con una seconda tenaglia composta dalle truppe che teoricamente sarebbero dovute rimanere di rincalzo, attaccare e spezzare questa punta di lancia tedesca, chiudere il fronte alle spalle per cercare di stabilizzare quello in avanzamento attraverso il Belgio che avanzava come detto molto rapidamente. Peccato che quando Churchill stesso, che peraltro era da poco diventato nuovo primo ministro, mi ero dimenticato di dirvelo, Chamberlain fu costretto alle dimissioni dopo il disastro in Norvegia e Churchill divenne nuovo primo ministro della Gran Bretagna. Ebbene quando Churchill volò a Parigi e chiese dove fosse la riserva tattica, che peraltro aveva salvato la Francia nella prima guerra mondiale, gli fu risposto, e lui disse che fu una delle cose più tremende da scoprire della sua vita, che non vi era alcuna riserva tattica. I francesi avevano inviato all'assalto tutte le loro truppe e praticamente, se non poche truppe raccogliticce, peraltro in numero veramente molto scarso, non vi era nessuno per poter arrestare i tedeschi, che dopo i due giorni passati a rifornire i carri armati, ripararli, far riposare gli uomini, ripresero la loro avanzata. La sacca nel nord della Francia si chiuse ben presto. I francesi si resero ben presto conto che non vi era alcuna speranza di difesa. Cercarono di difendere, di riportare indietro le difese, ma le truppe tedesche avanzanti erano semplicemente troppo forti. Ad un certo punto ci si rese conto che l'unica possibilità di salvare il salvabile era cercare di far fuggire più truppe possibili, fagli attraversare il mare, fagli attraversare la manica e portarle in Inghilterra. Il colpo di spedizione inglese e le truppe francesi conversero su Dunkerque. A questo punto si inserisce un mistero di questa storia. Le truppe tedesche, infatti, secondo quanto venne detto dai comandanti, avrebbero potuto facilmente spazzare via quest'ultima testa di ponte, come stavano spazzando via le truppe francesi da tutto il resto del nord della Francia. Fu Hitler però a ordinare che si fermassero. Se infatti nei primi giorni, mentre la marina inglese cercava disperatamente di riportare più truppe possibili, continuava a essere bersagliata dall'alto, dagli aerei, ma anche dalle navi, e le truppe tedesche stavano lentamente chiudendo il cerchio su quelle francesi e inglesi, soprattutto inglesi, ebbene a un certo punto Hitler ordinò, intorno al 27, 28 di maggio, ordinò di arrestarsi. Perché lo fece? Non si sa. Molto probabilmente lo fece perché voleva contrattare con gli inglesi, ma a tutti gli effetti si rivelò un errore, perché in quel momento l'Inghilterra praticamente non aveva più truppe, non aveva più riserve, e riuscendo a riportare gran parte, se non quasi tutto, del corpo di spedizione inglese in patria, unito a moltissime truppe francesi, seppur con poco materiale, permisa all'Inghilterra di avere una base da cui partire qualora la Germania l'avesse invasa. Mentre procedeva l'evasione, la fuga da Dunkerque, peraltro che conobbe dei momenti molto particolari, non so se avete mai visto il film Dunkerque, magari un giorno ne parlerò in una pidola, è un film bellissimo, ebbene la fuga da Dunkerque non avvenne solo grazie a delle navi militari, ma anche grazie a moltissime navi civili, mercantili e persino navi da diporto, insomma navi leggere, navi a vela, che giunsero da ogni parte d'Inghilterra per portare in salvo più truppe possibili. Pensate, veramente una guerra di popolo. Mentre questo avveniva, però, le truppe tedesche erano oramai infermabili. Sfondate, le ultime difese francesi dilagarono verso sud. Il 10 di giugno l'esercito, o meglio, il nuovo governo francese fuggì da Parigi, dichiarò Parigi una città libera, aperta, quindi sostanzialmente una città dove non ci sarebbero dovuti essere combattimenti, questo per evitare che venisse distrutta, così come era peraltro successo a Bruxelles in Belgio qualche giorno prima, e fuggì a Bordeaux. Lo stesso 10 di giugno fu il giorno in cui Mussolini ruppe gli indugi. Dopo aver visto la distruzione dell'esercito francese, Mussolini aveva in effetti chiesto di poter intervenire nella guerra già dal 5 di giugno, così aveva deciso anche Ciano, ma fu lo stesso Hitler a chiedere che Mussolini rimandasse di qualche giorno, forse perché temeva di doversi impegnare anche a difendere gli italiani, questo non lo sapremo mai, o forse perché sperava in un maggiore effetto a sorpresa se questa dichiarazione fosse avvenuta quando ormai l'intera Francia era in rotta e in fuga. L'attacco italiano alle Alpi, che come disse Mussolini, serviva ad avere un pugno di morti da spendere sul tavolo della pace, fu in realtà un disastro. Come gli fecero notare i generali, fino a quel momento si era deciso per una postura difensiva nei confronti della Francia, trasformare in un'offensiva con tutte le difese francesi pronte comunque a controbattere agli italiani, rese questo attacco abbastanza inutile. Tanto che alla fine della guerra gli italiani erano avanzati veramente di pochi chilometri, un 30-40 chilometri, non di più a costo peraltro di gravi perdite. L'entrata in guerra dell'Italia spostò la guerra anche verso l'Africa. Fin dall'inizio infatti l'Italia, che peraltro avanzò anche un pochettino in Tunisia, seppur di pochi chilometri più che altro si concentrò sui bombardamenti, aveva deciso che avrebbe attaccato anche in Egitto, perché due erano i fronti, uno quello egiziano, il confine tra Libia e l'Egitto, e uno in Africa, nella cosiddetta Africa orientale italiana, cioè la vecchia Etiopia, Somalia, Eritrea, conquistati dagli italiani, che erano attorniati da territori inglesi. Qui si concentreranno i prossimi mesi di guerra, ma di questo ne parleremo in futuro. Per quanto riguarda giugno, per questo settore dico solo una cosa, il 28 di giugno moriva colui che era stato inviato teoricamente a comandare il settore, cioè Italo Balbo, uno dei migliori generali dell'aria e di terra italiani. Secondo la storia ufficiale, fu abbattuto dalla contraerea, che per errore scambiò il suo aereo per un aereo nemico. Vi sono alcune teorie che dicono che in realtà fu abbattuto su ordine del Duce, che ne temeva il prestigio personale, ma insomma vi lascio queste due teorie con dovere di inventario. Insomma la guerra in Africa per l'Italia forse non cominciava nel migliore dei modi. La guerra che invece stava finendo era quella in Francia. La Francia oramai sconfitta fu costretta a chiedere l'armistizio. Prima di farlo contattò Churchill, chiedendogli sostanzialmente il permesso di poterlo fare, perché c'era un accordo firmato qualche mese prima tra Francia e Inghilterra che diceva che nessuna delle due potenze avrebbe potuto chiedere la pace senza che l'altra fosse d'accordo. Churchill, che si era reso conto che la Francia non aveva più nessuna possibilità di combattere, accettò che questi chiedessero l'armistizio. Chiese però una cosa, che la flotta francese lasciasse i porti, che per nessun motivo la flotta francese rimanesse in Francia. Questo perché, come Churchill debba dire in un famoso discorso di lì a qualche giorno, era finita la battaglia di Francia stava per iniziare la battaglia d'Inghilterra. Il prossimo obiettivo della Germania sarebbe potuto essere solo l'Inghilterra. E allora gli inglesi, che peraltro avevano perso in Francia forse non tanti uomini, ma tantissimo materiale, tanto che al momento della firma dell'armistizio con la Francia in Inghilterra vi erano non più di 2000 pezzi d'artiglieria, compresi quelli tirati fuori dai musei, rendetevi conto, quelli tirati fuori dai musei, ebbene l'Inghilterra aveva davanti a sé dei mesi molto duri. Come disse Churchill l'unica cosa che poteva promettere erano lacrime e sangue, ma gli promise anche che avrebbero combattuto fino alla fine, che non si sarebbero mai arresi, che avrebbero combattuto sulle spiagge, sulle colline, nelle città, dovunque, per fermare l'avanzata nazista. Una promessa che nei mesi successivi l'Inghilterra dovrà mantenere. La Francia intanto si arrendeva, il nuovo governo di Pétain, un eroe della Prima Guerra Mondiale, chiese l'armistizio alla Francia, alla Germania e all'Italia. Fu costretto ad accettare che più di circa due terzi del territorio francese metropolitano venissero occupati, tutta la zona occupata nord, mentre nella parte meridionale si conformò un governo collaborazionista che dal nome della capitale passerà, verrà chiamato il governo di Vichy, con a capo proprio Pétain. A massimo spregio Hitler insistette affinché il trattato di pace, o meglio il trattato dell'armistizio, venisse firmato all'interno della stessa carrozza ferroviaria dove era stato firmato l'armistizio nella Prima Guerra Mondiale tra la Germania e la Francia, vagone ferroviario che venne poi fatto saltare affinché non vi fosse un terzo armistizio. Le cose non vanno sempre come uno vuole. Bene, maggio e giugno sono passate, la guerra è entrata nel vivo, la Germania ha dimostrato a tutti la sua potenza, è uno dei momenti di maggior potere della Germania in Europa. Le sue armate e i suoi aerei sembrano infermabili, addirittura sui mari dove due delle sue corazzate tascabili, la Gnarnost e la Gniesenau, l'ho pronunciato malissimo, erano addirittura riuscite ad affondare nella ritirata dalla Norvegia una portaerei inglese. Insomma, la Germania in questo momento sembra infermabile. Nei prossimi capitoli vedremo che forse non era proprio così. Piccola nota di colore, alla fine di giugno l'Unione Sovietica farà un diktat alla Romania imponendole di cederla a Bessarabia che verrà incamerata, che grosso modo è l'attuale Moldavia più o meno, che verrà incamerata proprio in quegli stessi giorni. I rumeni torneranno a prendersela di via qualche anno ma la potranno tenere molto poco. Bene, con questo è tutto, noi ci fermiamo, riprenderemo questa storia martedì prossimo, domani ci sarà un'altra pilola di storia, se vi è piaciuta e volete continuare a seguire questo progetto iscrivetevi, lasciate un mi piace, io come al solito vi saluto dicendo che la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie incredibili, storia fantastica che nessuno scrittore o nessun regista avrà mai la fantasia di metterne le loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco, c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso, noi ci vediamo domani, che sono già più di 150, noi ci vediamo domani con un'altra pillola, ci vediamo martedì prossimo, andando avanti con la storia della seconda guerra mondiale. A presto, ciao ciao!